varie categorie, adesso per l'età, siccome poi sulla questione anziani c'è parecchia confusione, nel senso che il range di età che va dagli 80 ai 107, il più anziano come diceva lei, vengono tutti chiamati per lettera o c'è qualcuno che si deve muovere per prenotazione perché ancora non l'ha ricevuto? Vengono tutti intercettati. In più adesso ci si aggiunge un'altra, questa della waiting list o della lista di attesa. Sentite, la mole di input è paurosa, quindi noi abbiamo milioni di persone da vaccinare, però l'organizzazione ci permette di andare avanti a strascico in maniera assolutamente efficiente, per carità può accadere che c'è uno che ha cambiato residenza, non si ritrova, la lettera non arriva, però stiamo pensando anche a un modello accessorio, anche di accesso diretto, stiamo pensando anche a questo, però non anticipatelo perché se decidiamo ve lo presentiamo bene, per cercare anche di fare in modo che la gente esca di casa e si dice oggi vado a vaccinarmi, però bisogna essere sicuri che non arrivi a trovi mille persone davanti, se no viene 20 volte prima di riuscire a vaccinarsi, quindi stiamo valutando una modalità nuova, accessoria. Una sorta di cuscinetto perché dove un salvagente è dove queste persone possono rivolgere. Non escludo che utilizzerò queste conferenze stampa per farlo. Sono parecchie, c'è parecchia confusione. Per dare degli avvisi, che so, per dati di nascita, per semestri, per mesi, stiamo valutando, siccome noi abbiamo tutti questi dati, facciamo dei target. Ok, l'altra cosa che per esempio era stata annunciata, ma non ho capito se va in porto oppure no, era una sorta di zero code per la prenotazione. Sì, sì, stiamo lavorando anche su quello. Ma quindi è loro ancora tutti in itinere? No, zero code funziona, lo stiamo implementando, però vorrei non parlare di dieci argomenti oggi, se permettete, perché vorremmo presentarvi i progetti quando sono definiti. C'è un rischio che poi fra qualche giorno qualcuno dice aveva annunciato, aveva annunciato. Poi posso chiedere sempre per chiarezza su quest'altra cosa che riguarda gli anziani. Sì. Come vengono vaccinati, Astra o Pfizer, i medici adesso che verranno inseriti per fare anche gli anziani, quelli che sono a casa, riusciranno a fare il Pfizer a loro spetta? Allora, abbiamo cercato di chiarire, nel senso, gli anziani con patologie e quindi che rientrano in una casistica, che è quella anche che c'è stata fornita in base al piano nazionale e quindi hanno determinate patologie, vengono vaccinati con Pfizer, con Moderna. Con la circolare che ci è arrivata mercoledì, giovedì, non mi ricordo, dal Ministero, che ha detto che AstraZeneca può essere utilizzata anche oltre i 65 anni per i soggetti sani, vuol dire che se ci sono soggetti sani che non hanno patologie, che hanno 70, 75, 80, 85 anni, possono venire vaccinati anche con AstraZeneca, perché c'è l'ultima circolare che definisce questo. I soggetti invece che hanno patologie vengono vaccinati, questo è sempre scritto nel piano, con Pfizer o con Moderna. Posso fare una domanda, perdoni, però a una certa età è difficile essere esempi a... e quindi quali sono le patologie, se magari ci può spiegare meglio... C'è tutta una lista nell'anamnesi. Nell'anamnesi c'è la lista, la fa il medico. La fa il medico, grazie. Cioè se uno ha, che so, tromboflebite, cardiodiabete, cardiopatia, obesità o altre robe... Magari se ce la girate, che così anche loro sanno, la gente sa se può aspettarsi una o l'altra, grazie. Vi giriamo la circolare. Molto gentile. Abonet, Parisi, prigioni. Sì, Presidente, mi ricollego a questo, proprio perché ieri a Venezia c'è stato un caso abbastanza che sta distrando un po' di scalpore, cioè c'è esattamente il problema che descriveva la collega. C'è persone anziane che sono state invitate a vaccinarsi, peraltro lì c'è il nodo delle isole, quindi con gli spostamenti è stato un po' caotica, e che arrivate lì, insomma, gli anziani magari li conosciamo, non è che sono proprio precisi su questo, al momento solo dell'anamnesi hanno detto di avere delle patologie, quindi a quel punto sono stati fermati, no, non possiamo più fare Astra, tutti a casa di nuovo. Quindi... Non deve accadere. Riporto questo tipo di problema. Non lo sapevo. Non so neanche io noi come potremmo risolverlo, onestamente. Va risolto nel senso scusandosi con questi anziani, e vuol dire che i centri vaccinali devono avere, purtroppo siamo un po', avere una scorta minima di vaccini in alternativa per chi ha patologie, cioè non è che il cittadino deve tornare a casa se è stato convocato, chi è convocato deve tornare a casa vaccinato. Quindi ci scusiamo con questi anziani, ma la sento adesso io sta roba. Anzi, se è in contatto, contatto. Sì, sì, me l'ha segnalato la nostra redazione di Venezia, prima di entrare. Io direi che poi magari il direttore contatto prende contatti con te, e ci parla direttamente. Ok. Vabbè, sui riservisti volevo fare la domanda, ma l'ha già anticipata. Poi volevo chiedere, e quindi sempre in coda la collega, per spiegare bene alle persone, al momento tutte le persone che devono essere vaccinate vengono contattate con lettera, non ci sono altri modi. No, ci sono telefonate, c'è il sito 0... Scusami, vai, vai, vai. No, no, allora, chiariamo. Gli over 80 in questo momento sono contattati con lettera e si stanno chiudendo le corti. L'ultima settimana, mi sembra, di marzo, noi finiamo con l'ultima corte dell'over 80 e il congiungimento, se vi ricordate, dagli ottantenni al 107 anni, quindi l'ultima settimana di marzo. E questi sono chiamati con lettera. Quelli che invece sono stati chiamati in, non so, gli insegnanti, piuttosto che a forze dell'ordine, poi un po' particolare, perché abbiamo dato in quantitativo anche le forze dell'ordine, o comunque altre persone, sono state anche contattate tramite il zero code, e quindi prenotazione su piattaforme quelle dei cup aziendali. Ok. Ok, Marco? Sì, solo un'ultima cosa. Sulla organizzazione ospedaliera, attualmente l'attività ordinaria prosegue o è sospesa? Sì, sì. Io prima, grazie, prima ho ringraziato i medici, perché noi non stiamo... Considerate che l'anno scorso... Eh, però che domanda, non è un automatismo in zona rossa, a prescindere da... No, 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 no. Va con i nostri parametri. Però considerate che con questi parametri, l'anno scorso era tutto chiuso, anche i centri di prelievo. Quindi noi stiamo mantenendo l'ordinarietà con non pochi sforzi. Sempre per dire che qualcuno forse non si accorge di cosa sta accadendo dentro negli ospedali. Cioè abbiamo 1.600 pazienti che potremmo non avere in una situazione normale. sicuramente i covid hospital che sono stati riattivati quelli hanno già probabilmente adesso non vi so dire dove, come, cosa ma hanno già dei blocchi di alcune attività mantenendo sempre come solito urgenze, emergenze, punti nascita e quant'altro però i covid hospital stiamo parlando sì perché poi c'è i famosi 10 ospedali covid va bene, grazie Prego Parisi Presidente, buongiorno Parisi, Gruppo Media Nordeste TV dunque, tre domande in velocità la prima, per rifarmi alla questione vaccini e allo spreco di dosi dei vaccini la famosa waiting, cioè questa waiting list di cui ha parlato è la lista di riserva, come chiesto da Figliolo il commissario straordinario no, 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 la riserva della quale parlo io è un'altra roba ma no, no, questa è una roba di buon senso con questi numeri noi dobbiamo avere dei riservisti come li ha chiamati Marco piuttosto che una lista d'attesa di chi dice, vabbè, io so che mi chiameranno e se ci sarà un buco anticiperò il mio appuntamento perché c'è, come si fa con le TAC con le risonanze magnetiche con molte altre robe e ti dico, tanto segniamo poi ci facciamo vivi e poi sempre per il fronte ai vaccini ci chiamano molti telespettatori per chiederci, per quanto riguarda la categoria dei obesi e ipertesi non essendo segnalati da nessuna parte o non essendoci degli elenchi specifici di queste persone come si farà a chiamarli tra i fragili non solo per un'eventuale priorità o con il vaccino più adatto a loro noi lavoriamo tanto sulle esenzioni ticket per vedere qual è il livello di esenzioni che un iperteso obeso ha una esenzione ticket dopodiché c'è sempre l'ultima spiaggia la penultima chiamare il CUP per lo zero code per dire il problema se poi lì, dall'altra parte del telefono trovi una persona che dice non riesce a sistemare la roba io penso che l'unica soluzione resti a quel punto e chiedere al medico di base di farlo come prescrizione di trovare una soluzione dobbiamo cercare di organizzarci tutti assieme perché ci sono casi guardate, l'altro giorno ci è toccato un diabetico obeso questo ha mandato un messaggio e c'era già il servizio però lui era uscito dalla maglia non è stato intercettato può capitare? quindi per il momento si segue la logica noi abbiamo chiesto elasticità ai centri di prenotazione se uno dice guarda io sono iperteso obeso si presenterà al centro vaccinale dopo vediamo magari con una lettera del medico di medicina generale magari sì ultima domanda presidente è dal fronte dei lotti sospesi per vaccini a quello delle mascherine lei ne ha parlato già nei giorni sta seguendo l'assessore ecco, nella settimana scorsa adesso è venuto fuori il lotto di queste mascherine incriminate non voglio parlare di scandalo ma ancora non si sa bene per quanto riguarda la FFP2 si parla del codice CE 2163 che identifica questo ente certificatore turco si chiama Universal Cert che sembra non siano a norma se ha qualche dato in più dal suo osservatorio se si può capire meglio se queste mascherine sono a norma o no non ho un dato in più però ho fatto formale richiesta ufficiale al dottor Flore al dottor Toniolo di Azienda Zero di fare una verifica puntuale e di poi riferirci rispetto a se ci sono o se sono state utilizzate che autorizzazioni hanno quindi appena abbiamo le informazioni ve le diamo sì perché ce ne sono veramente tante in circolazione sì 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 ma è certo ma la segnalazione è stata fatta subito grazie magari potremmo invitare domani il dottor Flore così in relazione anche rispetto a questo se ci segniamo grazie buongiorno a tutti buongiorno Presidente è fatto salvo che le decisioni sulla scuola le prende il governo con il DPCM lo stato del contagio in Veneto in questo momento permetteva di tenere ancora aperte le scuole dell'infanzia e non lo so magari la prima elementare la seconda elementare secondo lei mi contraddirrei se dicessi di no perché la settimana scorsa è esattamente quello che ha fatto la Regione Veneto dopodiché non sto avanzando nessuna ipotesi perché non compete a me e non so quali siano gli elementi per fare questo vuoto sanitario di dieci giorni immagino che sia quello del contagio che comunque nei piccoli in questa fase è più evidente di quando nelle altre fasi noi la scorsa settimana abbiamo pensato eravamo arrivati al limite delle medie i genitori ci dicono comunque le medie ovvio che il contagio c'è i focolai ce li abbiamo anche gli elementari questo è poco ma sicuro negli asili però noi quando è toccato a noi a decidere abbiamo deciso così non voglio far polemiche dico rispondere alla domanda e basta grazie prego e con questo io avrei chiuso non creare incidemi buone sul fatto personale no no questa volta no geopolitico non ho capito il tema dell'Emilia Romagna hanno chiesto dei posti qui no no è stata fatta una domanda da un tuo collega la scorsa settimana ah ok se avevamo ricevuto richieste noi abbiamo detto al momento no perché c'è la cross c'è una realtà nazionale che è smista ok le richieste quindi al momento non ci sono richieste ok ma vi dirò anche una cosa che con questi numeri che si incrementano avete visto di 40 pazienti al giorno cioè forse andare a disponibilità ma limitatissima perché se fra 10 giorni se questo è il trend fra 10 giorni abbiamo 300 almeno 300 persone in terapia intensiva rapportati vuol dire quasi al massimo di marzo dell'anno scorso una decina di giorni se il trend è questo considerate che noi oggi quando vediamo in terapia intensiva oggi è quello che è entrato in ospedale molto probabilmente 15 giorni fa quindi noi per 15 giorni adesso caricheremo ancora e non c'è scritto da nessuna parte che il 31 marzo finisce cioè finirà adesso cerchiamo di fare in modo che il contagio circoli sempre di meno dopo di che arriverà la bella stagione e via però 200 persone non sono poche in terapia intensiva al di là che ci sia qualcuno che banalizza tutto però noi abbiamo la responsabilità e finché ce l'abbiamo noi questa è una cosa seria io passerei la loro parola nell'ordine ringraziandovi anche per la comprensione all'assessore Lanzarin che vi può parlare sia delle cure domiciliari che brevemente dell'incontro fatto stamattina la dottoressa Scrochero poi che entra nel merito delle cure domiciliari l'avvocato Botteon che è a disposizione per domande sulla zona rossa lui l'ha studiata per un anno per cui grazie buon lavoro allora molto velocemente stamattina abbiamo convocato abbiamo fatto una convocazione sabato d'urgenza quindi alle 10 questa mattina abbiamo convocato tutte le categorie economiche a livello regionale più i sindacati confederali per iniziare il percorso per quanto riguarda la delibera che è stata approvata venerdì ossia quella legata al protocollo per poter effettuare le vaccinazioni all'interno delle aziende la delibera prevede come se vi ricordate la possibilità di effettuare quindi le vaccinazioni qualora ci dovessero essere i vaccini all'interno delle aziende e noi nella nostro deliberato abbiamo anche esteso di estendere scusate gioco di parole di estendere anche ai familiari parenti che rientrano nelle categorie nelle corti d'età che sono previste dal nuovo piano ossia 60-70 anni 60-80 anni scusatemi i 20 anni che ci mancano di estendere anche a questi ricordiamolo che il protocollo che noi abbiamo adottato arriva anche a seguito dell'inserimento di questa possibilità all'interno del nuovo piano nazionale di vaccinazione oggi abbiamo presentato quindi a tutti questi stakeholder il protocollo e abbiamo anticipato è scritto anche in delibera che ci sarà una cabina di regia che verrà convocata verso fine settimana chiedendo a loro un riferimento tecnico proprio per entrare nell'operatività e nella declinazione quindi dell'effettuazione dell'eventuale effettuazione dei vaccini all'interno delle aziende è chiaro che tutto questo si potrà concretizzare solo nel momento in cui avremo vaccini a sufficienza insomma o comunque vaccini in numero considerevole e dovrebbe essere parliamo al condizionale sempre nel secondo trimestre e quindi da aprile in poi però chiaramente vogliamo aprire per poter permettere questo da parte loro quindi da parte sia delle categorie economiche sia dei sindacati massima disponibilità con l'attenzione già prevista che non ci siano delle categorie che vengono prima dell'altra e la cabina di regia serve proprio per cercare dei parametri che vadano in questa direzione abbiamo anche ben specificato che nel piano nazionale è previsto che queste vaccinazioni avvengano in parallelo alle vaccinazioni delle classi di età dei settantenni piuttosto che dei settantacinquenni dei settantotenni o dei sessantacinquenni quindi sono previste in base al piano quindi la cabina inizierà a lavorare e quindi vedremo poi insomma in base ai criteri che ne emergeranno sulla suddivisione su un potenziale insomma adesso noi non sappiamo quanto può essere un potenziale a settimana a giorno dipende chiaramente in base alle provvigionamenti e poi invece i criteri per la suddivisione all'interno delle loro aziende con anche scritto perché confartigianato tipo insomma che sono aziende molto più piccole dice noi non abbiamo aziende di dimensioni importanti però nella delibera è scritto anche che si possono mettere insieme più aziende quindi anche quelle aziende insomma che hanno meno di 10 dipendenti meno di 15 dipendenti insomma possono anche fare un lavoro di questo tipo e quindi questa è la notizia dell'incontro di stamattina due parole invece poi lascio la parola alla dottoressa Scroccaro per quanto riguarda la dottoressa Scroccaro illustrerà un po' i risvolti del nostro protocollo cure domiciliari alla luce anche di quello che è successo che abbiamo sentito della sentenza appunto che aveva comunque che non ci riguardava perché il nostro protocollo comunque non contemplava la vigile attesa ma poi lo spiegherà molto bene la dottoressa Scroccaro e poi dirà anche perché noi nel frattempo abbiamo lavorato e questa è la novità più importante per quanto riguarda il protocollo per i monoclonali da domani mi sembra da domani arrivano i monoclonali voi sapete che i monoclonali sono stati autorizzati dal ministero e ci arriveranno dal ministero cioè quindi quantitativi che il ministero metterà a disposizione delle regioni in base alle richieste e in base io credo insomma all'approvvigionamento poi che il ministero avrà quindi ci arriveranno puntualmente insomma dal ministero quando noi ne facciamo richiesta e in base ai quantitativi che ci sono c'è un protocollo che eventualmente poi velocemente lo illustriamo vengono usati dappertutto bisogna avere determinate caratteristiche sappiamo che sono pazienti che devono essere all'inizio della sintomatologia e sono pazienti che non hanno bisogno di ricovera ma hanno bisogno solo della somministrazione del tempo di vigilanza per subito il dopo insomma la somministrazione però poi la dottoressa Scroccaro vi spiega molto bene il dato che io volevo darvi invece che poi quindi anticipando un po' quello che dirà la dottoressa Scroccaro è e che diceva il presidente è quella relativamente ai numeri che noi vediamo quotidianamente no se voi vi ricordate in uno dei cartelli di oggi il presidente diceva che noi abbiamo 355.000 positivi da inizio pandemia ad oggi quindi dal 21 febbraio ad oggi 16.821 sono i dimessi quindi 16.821 sono i dimessi se noi togliamo da questi anche i deceduti che sono 10.116 noi abbiamo un dato che il totale dei positivi mai ricoverati oggi sono 329.940 parlo da inizio quindi dal 21 di febbraio quindi 329.940 di cui si asintomatici 171.000 che sono il 52% il resto sono persone sintomatiche quindi il 48% quindi circa altri facciamo la differenza poi la facciamo che sono quelli che sono stati seguiti a domicilio vi faccio anche poi adesso vi faccio il conteggio corretto sono 329.940 meno 171.568 la differenza sono quelli appunto che sono stati seguiti a domicilio a casa che quindi hanno avuto delle cure domiciliari o comunque un approccio a domicilio tramite USCA o tramite medici medicina generale questo per visto che parliamo di protocollo di cure domiciliare per capire quante persone da inizio pandemia ad oggi sono state seguite a casa io lascerei il posto la dottoressa Scroccaro e poi eventualmente rispondo anche io ma prima che così andiamo un po' in fila grazie assessore prego dottoressa Scroccaro se si mette al centro grazie buongiorno buongiorno questo vuole essere un aggiornamento rispetto al protocollo farmaci che ha adottato la regione del Veneto anche per cercare di dare risposta a questi articoli o a questi pensieri che a volte vengono espressi da alcuni cittadini sul timore che in Veneto non si possano trattare a casa a domicilio i pazienti con i farmaci necessari allora la prima cosa da dire è cos'è un protocollo che fa una regione un protocollo è un suggerimento che viene fatto da chi la regione si avvale degli specialisti che nomina in commissioni che possono in alcuni casi essere state nominate anche dalla giunta commissione terapeutica regionale del farmaco ad esempio è nominata dalla giunta ma anche dei gruppi di lavoro che vengono nominati chi abbiamo contattato noi i nostri riferimenti sono stati gli infettivologi quelli che sono stati contattati erano gli infettivologi delle due aziende ospedaliere di Padova e Verona allo stesso modo gli pneumologi di Padova e Verona anestesisti responsabili dei pronto soccorsi e poi medici di medicina generale medico di medicina generale indicato dalla SIMG la società scientifica e un medico di medicina generale invece indicato dalla FIMG ecco questi medici hanno lavorato sulla base delle evidenze disponibili dei dati pubblicati degli studi della letteratura e ne è uscito il protocollo quello di cui abbiamo parlato l'altra volta che è stato approvato in gennaio allora a fronte di questo protocollo però permane un po' questo rumor di fondo che in Veneto sono vietate delle terapie quindi cosa abbiamo fatto poiché qualche giorno fa qualche settimana fa il Piemonte ha licenziato il suo protocollo di presa in carico delle cure domiciliari noi siamo andati a vedere che tipo di farmaci prescrive abbiamo fatto proprio un confronto e in realtà è abbastanza sorprendente che la stampa parli del Piemonte come di una regione in cui si possono usare tanti farmaci a domicilio e nel Veneto invece non sarebbe così confrontati sono due protocolli praticamente speculari usano gli stessi farmaci anzi direi che rispetto a un farmaco in particolare l'idrossiclorochina il Piemonte pone qualche precauzione in più cioè suggerisce al medico prima di utilizzarlo di verificare che il paziente non abbia dei problemi ad esempio cardiovascolari delle aritmie quindi per il resto a parte un unico farmaco che francamente non avevamo suggerito ma pensavamo fosse assolutamente nelle corde di ogni medico poterlo prescrivere quindi a parte la vitamina D che non c'era nel nostro protocollo che valuteremo la possibilità di inserirlo a parte la vitamina D per il resto tutti i farmaci usati in Piemonte sono gli stessi farmaci che noi abbiamo inserito nel nostro protocollo forse qualcuno ha malinterpretato cosa vuol dire protocollo non è una legge che ti impone di usare quei farmaci è un suggerimento che la regione o meglio gli specialisti della regione hanno stilato un medico può decidere di aderire a questo protocollo può decidere anche di non aderire perché può decidere di utilizzare tutti i farmaci che sono regolarmente autorizzati in commercio in Italia ma così anche negli altri paesi d'Europa non si possono usare i farmaci non autorizzati quindi un farmaco che non è autorizzato che non c'è che non è in commercio non si può utilizzare tutti gli altri farmaci possono essere utilizzati nel rispetto delle indicazioni riportate nella scheda tecnica che per il cittadino è il foglietto illustrativo quindi nel foglietto illustrativo dove c'è scritto indicazioni che vuol dire quando lo usi lì l'agenzia italiana del farmaco ha indicato in quali condizioni usarlo un medico potrebbe anche non utilizzare usare un farmaco al di fuori di quelle indicazioni ma come dicevamo l'altra volta deve far firmare il consenso informato al paziente cioè deve deve informare il paziente che questa specifica indicazione non c'è ma che lui ritiene di somministrarlo il paziente deve essere disponibile accettare l'impiego e quindi lo utilizzerà e veniamo proprio sul farmaco di cui si continua molto a parlare che è l'idrossiclorochina allora l'idrossiclorochina nella scheda informativa del farmaco non ce l'ha l'indicazione del covid non ce l'ha non c'è nessuno ha detto che si deve usare per il covid ma da noi se già il protocollo nostro di gennaio lo diceva io lo ribadisco nel caso in cui un medico ritenga di voler utilizzare l'idrossiclorochina lo può utilizzare facendo firmare il consenso informato quindi anche questo questa voce diciamo questo rumor di fondo che in Veneto non si possa utilizzare l'idrossiclorochina è infondato perché anche l'idrossiclorochina si può utilizzare quindi diciamo che i farmaci che possono essere utilizzati i farmaci che sono consigliati suggeriti dalle regioni noi abbiamo confrontato il nostro con quello del Piemonte la Lombardia non ha fatto un protocollo regionale però la federazione degli ordini dei medici lombardi quindi una grande regione con tutte le federazioni degli ordini provinciali hanno emanato un protocollo che anche quello è molto simile con gli stessi farmaci che indichiamo perché per fare un protocollo vabbè le regole un po' per la stesura sono un po' sempre le stesse sicuramente noi terremo sott'occhio sempre la letteratura i dati nuovi dati che dovessero uscire e quindi se ci sarà la necessità di aggiornare il nostro protocollo che va letto come una indicazione un suggerimento un consiglio aggiorneremo il nostro il nostro protocollo questo rispetto alle cure domiciliari come ricordava l'assessore i pazienti che hanno un tampone positivo al covid ma che poi sviluppano i sintomi e che hanno quindi la necessità di essere curati con le terapie a domicilio sono circa diceva l'assessore la metà il 50% no? Quindi noi possiamo ben dire che 150.000 pazienti sono stati trattati a casa dai nostri medici di medicina generale con le terapie che erano disponibili che sono disponibili faremo anche degli approfondimenti per capire analizzando anche le prescrizioni quali sono stati i farmaci prescritti per conoscere di più ma abbiamo assoluta consapevolezza anche attraverso incontri ripetuti che abbiamo avuto con i medici di medicina generale che i pazienti vengono che questi medici si prendono carico e dei pazienti li trattano quindi rispetto alle cure domiciliari questo è quello che vi volevo dire la grande novità l'ha già accennata l'assessore quella degli anticorpi monoclonali da martedì arriveranno 245 dosi che corrispondono a 245 pazienti perché si fa una sola dose sono le prime dosi che fornisce il ministero quindi 245 per la regione veneto 4.000 su base nazionale il ministero decide sulla base dei dati dei positivi forniti dall'istituto superiore di sanità i criteri di ripartizione tra regioni quindi non è una ripartizione su quota capitaria è una ripartizione che fa il ministero sulla base della positività registrata nelle varie regioni a noi arrivano intanto queste dosi martedì quindi domani e secondo le prime indiscrezioni del ministero dovrebbero arrivarne altre dosi vedremo quante a fine marzo quindi sicuramente nel primo periodo non ne abbiamo tantissimi questo è vero rispetto alle nostre aspettative però è il massimo che è riuscito a fare il ministero facendo questi contratti con le aziende sono farmaci che come anticipava l'assessore dovranno essere somministrati in una fase precoce entro i dieci giorni dai sintomi dalla comparsa dei sintomi meglio molto meglio se entro 5-6 giorni dalla comparsa dei sintomi quindi qui il protocollo che noi abbiamo stilato sempre con gli specialisti di cui vi parlavo prima ma con il grande contributo della medicina generale è un protocollo che vede i medici di medicina generale in prima linea perché sono loro che devono intercettare i pazienti perché sono pazienti che devono avere una serie di fattori di rischio ve ne elenco alcuni che sono poi sempre gli stessi l'obesità le cardiopatia il diabete quindi sono i principali fattori quindi le ha decisi l'agenzia del farmaco questi criteri di selezione quindi i medici di medicina generale dovranno intercettarli velocemente e riferirli mandarli ai centri che noi abbiamo già individuato per evitare colli di bottiglia abbiamo individuato uno o più centri in base alle richieste dei direttori generali in ogni azienda sanitaria quindi in ogni azienda sanitaria avremo un centro infusionale perché questo farmaco è un farmaco che pur il paziente essendo selezionato a casa non lo può fare il farmaco a casa l'agenzia del farmaco ha dato indicazioni che vengano somministrati in ambulatori la somministrazione durerà fino a un'ora circa 60 minuti e poi c'è la necessità di avere altri 60 minuti di osservazione del paziente ad oggi sono stati individuati 12 centri infusionali li abbiamo proprio identificati in questi giorni il fine settimana quando abbiamo avuto la notizia da parte dell'agenzia che arrivavano questi anticorpi monoclonali e quindi dei centri i centri beh sì io mi li sono segnata qui sono allora l'azienda ospedaliera ce l'ha un centro in ospedale Borgo Trento in ospedale Borgo Roma l'azienda ospedaliera di Padova allora andiamo piano se no non riesco a scrivere Borgo Trento e Borgo Roma per l'azienda ospedaliera Verona Padova sì ma lo possiamo mandare allora ve lo mandiamo sì sì dai mandiamo la notte pomeriggio ok va bene quindi sono stati identificati questi 12 centri mentre invece le sedi di stoccaggio perché il ministero ci chiedeva di avere sedi limitate di stoccaggio sono sette sette sedi provinciali in ogni provincia c'è uno le farmacie ospedaliere sono già allertate che domani arriveranno questi farmaci bene basta mi fermerai qui grazie domande allora prigioni Giacomuzzo Moscati Bonet buongiorno prego prigioni buongiorno dottoressa mi sembra di capire dalla premessa che ha fatto dall'illustrazione che il protocollo di cura a domicilio non può essere obbligatorio e anche ci sono dei medici qualche medico generale che ha curato i propri pazienti con uno specifico protocollo che invitava magari la regione ad imporlo come prassi diffusa è nella libertà del singolo medico quindi attuare un protocollo specifico per ogni caso sì il trattamento individuale è scelta del singolo medico non è obbligatorio come ho già detto il protocollo e rispetto a quello che diceva lei è vero c'è stato un gruppo di medici che ha trasmesso a tutti i presidenti di regione che è lo stesso gruppo che ha fatto il ricorso al Tar del Lazio il proprio protocollo chiedendo di di prenderne visione di sottoporlo alle nostre aziende sanitarie ai nostri medici noi l'abbiamo fatto quindi abbiamo sottoposto a quelle commissioni di cui vi dicevo prima il protocollo e i nostri medici sia gli specialisti che i medici di medicina generale hanno ritenuto opportuno non adottare quel protocollo ma mantenere il nostro protocollo sarebbe d'altra parte impensabile che qualcuno potesse imporre a qualcun altro l'utilizzo di un protocollo quindi questo diverso protocollo chi vuole aderire aderisce naturalmente non può imporlo a tutto il resto dei nostri medici della regione questo perché è emerso che praticamente ogni caso è un po' a se stante l'ha studiato ad ocche un farmaco che a me potrebbe far bene potrebbe danneggiare un altro paziente sì o diciamo che i protocolli differiscono soprattutto sulla tempistica di avvio alcuni protocolli il protocollo nostro e anche molti altri prevedono che nei primi due giorni si somministrino alcuni farmaci e poi si attenda se non c'è risposta dal terzo giorno si incominciano a utilizzare anche altri farmaci invece il protocollo dei medici che hanno fatto ricorso al TAR per intenderci prevedono un utilizzo già subito immediato di tutta la batteria di farmaci quindi la differenza è quella non è sul tipo di farmaci perché i farmaci sono gli stessi farmaci che si possono dicevo anche l'altra volta riassumere nelle dita di una mano e sono il cortisone grande farmaco le parine a basso peso molecolare l'ossigeno gli antibiotici quando si ipotizza che ci sia un'infezione batterica perché il corona è un virus quindi solo quando si ipotizza che ci sia un'infezione batterica si assumono questi farmaci si assumono gli antibiotici e gli antinfiammatori non steroidei nella fase anche iniziale adesso si è aggiunta anche seppur con pochi studi a supporto anche la possibile utilità della vitamina D l'idrossiclorochina con le specificazioni che dicevamo prima grazie Giacomuzzo Moscati Bone dottoressa Scocro buongiorno l'altro farmaco di cui si sente parlare adesso all'interno di questi piani è il cortisone ci sono studi americani ho letto che sostengono che vada usata solo in un secondo momento c'è anche un ospedale di Bologna che ha tre aspetti di questo policlinico che hanno sostanzialmente sostenuto che vada utilizzata il più tardi possibile il cortisone vada utilizzato il più tardi possibile perché altrimenti l'ego favorisce la replicazione virale e quindi l'infezione e le sue conseguenze su questo che posizione ha il Veneto se ce l'ha oppure se non l'ha presa neanche in considerazione la posizione del Veneto è sulla linea che lei raccontava di Bologna perché il cortisone inibisce le difese immunitarie quindi si ritiene importante somministrarlo però non nei primi giorni quindi da noi viene suggerito ad esempio dal terzo quarto giorno grazie e poi una domanda su i monoclonali i pazienti allora vengono preselezionati dai medici di base i candidati e poi confermati dagli ospedali per fare questa infusione il paziente è positivo in teoria il positivo non può uscire di casa e tanto più entrare in un ospedale dove ci sono tante persone a rischio avete costruito dei percorsi protetti per creare questo serviranno delle certificazioni per far uscire il positivo di casa e poter entrare in ospedale allora il paziente che viene individuato dal medico di medicina generale viene di fatto segnalato alla COT che è la centrale operativa territoriale delle USL e viene dato il nome anche direttamente al centro infusionale quindi in realtà il paziente si sa che potrà uscire gli è scritto nel nostro protocollo anche che qualora avesse difficoltà ad andarci non potesse essere accompagnato potranno essere previsti anche dei trasporti dedicati e gli ambulatori ovviamente sono ambulatori messi nelle zone destinate ai pazienti covid quindi sono nelle zone riservate ai pazienti covid con tutte le precauzioni del caso perché certo sono pazienti positivi sì Moscati buone sì buongiorno mi scusi io volevo una precisazione sul discorso della scelta del candidato per questo tipo di cure monoclonali con i monoclonali lei prima ha detto obesità cardiopatie diabete ne ho citato qualcuno perché sono molti di più ecco mentre diciamo alcune sono facilmente individuabili perché ci sono dei parametri ben precisi magari la cardiopatia è forse quella un po' più vasta o sbaglio perché per esempio una tachicardia più o meno congenita o più non so diciamo che è molto comune insomma è difficile da individuare forse lì si può perdere dei giorni preziosi oppure c'è anche lì un riferimento preciso ma noi noi pensiamo che non si perderanno giorni perché la selezione la fa il medico di medicina generale è lì la grande sfida perché conosce il paziente quindi non sarà un altro a selezionarlo è proprio il medico di medicina generale che tra i suoi pazienti positivi immediatamente individua quelli che sono candidabili per fargli fare la terapia ho capito quindi non non c'è possibilità dunque è dal medico quando lo sta curando a casa certo e c'è anche qui un consenso informato che deve essere l'agenzia del farmaco ha previsto il consenso informato in realtà è un farmaco perché perché non è un farmaco regolarmente autorizzato al commercio in Italia è un farmaco che è stato autorizzato vi ricorderete con un decreto del ministro in uso speciale anticipato quindi è previsto il consenso informato anche per questi ecco le domande invece della zona rossa per l'avvocato le facciamo dopo 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 buone grazie sì dottoressa io ho curioso di sapere il costo della cura se si può sapere quanto costa sì allora i contratti li ha fatti il ministero e non ci ha dato i contratti in mano però sappiamo più o meno 1500 euro al trattamento sicuramente il paziente non è in carico non deve pagare no 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 certamente no bene con questo chiederei ringraziamo dottoressa Scroccaro ringraziamo l'assessore Lanzarin e lasciamo la parola alle commission frequently asked questions come dicono dell'avvocato che raggiunge però Carlo perdonami scusa un last minute per l'assessore un last minute per l'assessore ma non è una domanda in realtà è una sollecitazione che arriva dalle associazioni dei non vedenti che non hanno ancora ricevuto notizie sul fronte vaccinale e vorrebbero insomma essere tenute in considerazione allora voi sapete che nel nuovo piano rientrano come categorie quelle insomma le prime categorie da fare tutte le persone con determinate patologie comprese tutte le disabilità anche le disabilità sensoriali quindi noi stiamo facendo la declinazione del piano nazionale ci sarà una delibera e quindi avrete modo anche di vederla con i contenuti delle varie categorie e più o meno la tempistica in base sempre al numero di vaccini che ci arrivano e a quando ci arrivano però fanno parte appunto di questo contingente che sono quelli delle persone con patologie o con disabilità qualsiasi tipo di disabilità grazie bene ribadisco l'invito all'avvocato a raggiungere il centro della sala e allora domande sulla zona rossa fioccheranno come allora moscati tosato per il momento sì allora mi scusi avvocato se posso comincio così velocizziamo questa domanda ci arriva io forse l'avevo già posta a suo tempo a Natale però adesso è più impellente perché ci sono dei turisti che stanno telefonando a Venezia stranieri parlo per sapere se possono venire a Venezia a Pasqua ovviamente a noi è assolutamente interdetto volevo capire se pertanto era interdetto il turismo anche agli stranieri vaccinati che ce ne sono tanti in questo momento questa è la prima domanda allora l'atterraggio a Venezia è consentito e poi la partenza dai paesi stranieri è regolata ovviamente dai paesi stranieri non c'è assolutamente nessuna preclusione al ricevimento da parte degli aeroporti italiani di soggetti che si possono muovere dall'esterno una volta di sicuro atterrati sono sottoposti alle regole di spostamento che valgono per il territorio nazionale e per quanto ci riguarda regionale quindi chi atterra a Venezia si trova a dover e a poter svolgere le attività che possono essere svolte nel territorio veneto a Pasqua è possibile secondo il decreto legge secondo il decreto legge che è stato pubblicato l'altro giorno quello del 30 sarà possibile allo Stato dell'Arte spostarsi a livello regionale una volta al giorno nei tre giorni del periodo pasquale sabato domenica e lunedì ecco in realtà il turista straniero si troverebbe quindi nell'impossibilità anche salva questa possibilità di muoversi per visite rivolte verso abitazioni private in territorio regionale da svolgere una volta al giorno per quei tre giorni in ambito regionale non potrebbe neanche uscire dalla dimora dall'albergo perché in zona rossa è vietato anche lo spostamento all'interno del comune se non per le ragioni tradizionali cioè quelle del lavoro della della necessità e della salute sì è possibile fare attività motoria con questo cioè la passeggiata e quindi svolgere attività nei pressi peraltro appunto dice la norma dell'abitazione ma sarebbe evidentemente evidentemente una limitazione che non giustifica evidentemente lo sforzo del del viaggio fino a Venezia quindi in sostanza posto che l'atterraggio non è precluso salvo nel rispetto delle regole straniere e comunque nel rispetto anche delle regole italiane poi in tutta Italia quindi con esclusione solo della Sardegna nei giorni di Pasqua i movimenti sono estremamente limitati c'è una possibilità per quei tre giorni di spostarsi in ambito più che altro la domanda naturalmente interessava agli albergatori che ovviamente non apriranno neanche certo ci possono essere solo le case vacanza bene passo subito alla seconda per quanto riguarda la scuola i laboratori delle superiori sono in presenza sono rimasti in presenza naturalmente dalle famiglie viene fuori qualche dubbio e anche le scuole le scuole guida per esempio ecco per cui da parte loro veniva fuori questa questa ipotesi dice se lo tengo a casa perché effettivamente se c'è questo problema preferirei tenere a casa ma viene segnata assenza nel laboratorio parliamo nello specifico sì ok per cui volevano capire se c'era qualche possibilità di non considerare le assenze o cose di questo genere ecco questo va gestito in relazione con nel dialogo con la singola istituzione scolastica ecco come diceva lei comunque il laboratorio è ammesso come ambito di operatività della didattica in presenza quindi è normale attività c'è comunque anche quel riferimento alle situazioni di particolare disagio che giustificano in realtà la presenza e che comunque consentono all'istituto scolastico di valutare caso per caso le problematiche che possono essere relative alle singole vicende la diciamo mera preoccupazione derivante dal contagio non può essere tale da giustificare un trattamento differenziato in relazione al singolo studente per il laboratorio si è ritenuto ecco che questa sia una prassi assolutamente ordinaria di svolgimento dell'attività quindi il laboratorio secondo il programma scolastico si deve svolgere benissimo ecco un'ultima cosa perché naturalmente ce ne sono tante di domande che evito allora per quanto riguarda le famiglie che naturalmente sono un po' sul piede di guerra per queste chiusure soprattutto nella prima infanzia vanno a rilevare che nel decreto legge originale cioè non nelle fac o cose nel decreto legge originale si parla di zona rossa quando si raggiunge e viene posto solo il dato dei 250 su 100 mila abitanti di positivi l'incidenza ora noi sappiamo che in conferenza stampa anche proprio i due giorni precedenti all'uscita il presidente Zai aveva sottolineato che noi avevamo e anche io ho rifatto il calcolo degli ultimi dati disponibili come dice il decreto ed era 201,88 nel Veneto ecco per cui era inferiore allora siccome in realtà è quello il dato che appare nel decreto legge perché andiamo per carte scritte non per ipotesi che sono state fatte dal CTS o altri stando a quello che è scritto nel decreto legge cosa dicono i genitori non ci esattamente dicono non ci sono i dati percentuali che dimostrino questa necessità di chiudere soprattutto perché i bambini non sono a rischio cosa risponde alle famiglie in difficoltà questa era la domanda per il Presidente ma poi l'ho fatta a lei è una domanda che investe per metà al Dipartimento Prevenzione però più che più che un giurista insomma e siccome investe tanto iniziamo un attimino solo qualche piccola cosa ci sono comunque anche dei profili giuridici ecco io posso segnalare questo a fini di collaborazione di tutti quanti nella ricostruzione di una normativa sicuramente stratificata accelerata con vari interventi di vario tipo si parlava di decreto legge in realtà mi permetto di dire che della chiusura io insisto sul fatto che si tratta di modifica dell'attività scolastica dalla presenza a distanza quindi non di chiusura dell'attività scolastica ma di trasformazione della stessa per l'infanzia di sicuro ecco c'è la chiusura ecco ragione comunque questo intervento ecco modificativo restrittivo per gli asili di chiusura in realtà se si parla ecco del dato secco dei 250 su 100.000 casi su 100.000 abitanti rilevati settimanalmente se ne parla nel dpcm nel dpcm che è del 2 di marzo e che disciplina in questi termini la ormai abbastanza dimenticata zona gialla e in relazione a quella zona diceva che in presenza di questo parametro numerico che era stato auspicato dai presidenti delle regioni in modo da evitare la discrezionalità che si era manifestata nel corso del tempo nella gestione delle presenze scolastiche ecco in presenza di questo dato numerico ai presidenti la norma è l'articolo 21,2 dà la possibilità non l'obbligo non non determina un automatismo ma dà la possibilità della chiusura di tutti i gradi di servizio educativo e scolastico compreso quello dell'infanzia in realtà quella norma e penso ecco che parliamo della stessa cosa perché io di decreti legge che abbiano trattato la tematica dell'attività scolastica in relazione a quel parametro anche considerando quelli che sono usciti in questi giorni non ne conosco ma credo che ci si riferisca a quella norma quella norma oltre a riferirsi a un dato relativo al territorio regionale parlava anche di territori subregionali e in particolare provinciali provinciali ma aprendo anche a delimitazioni che possono essere diverse a seconda comunque del livello di significatività dell'aggregazione in Veneto si era determinato il livello più appropriato con riguardo alla circoscrizione dei distretti che hanno più o meno ecco in tutto il territorio mi scusi è per stringere infatti noi abbiamo capito benissimo però la domanda era secca posta dalle sì però l'avvocato ha detto che oltre al parametro dei 250 per 100 mila c'erano anche i parametri dei distretti e su quei dati si intervenne se vi ricordi no 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 ma io non sto dicendo che non c'entra che si intervengano io sto parlando genericamente cioè dicono in soldoni non c'erano i dati perché non era globalmente per chiudere l'infanzia questo è i soldoni non c'erano sì ma globalmente ti ha spiegato che non c'entra perché già la stessa legge prevedeva dei distretti cioè dei dati a livello provinciale quindi il generale non esiste più rispetto al provinciale non c'era il dato regionale non eravamo a livello regionale a oltre 250 ma lo eravamo a livello in alcuni casi provinciale come tali abbiamo agito infatti se tu ricordi ti ricordi che abbiamo provveduto a chiudere io non sto dicendo loro dicono che non si doveva chiudere perché il dato è 201 a livello regionale sì ma questo è sbagliato perché le dico che la norma è sbagliata perché la norma mi ha dato la risposta la risposta è quella che mi ha dato io volevo solo sintetizzarla perché me l'hanno chiesta ripetutamente il potere il potere non è conferito solo quando a livello regionale si supera il 250 ma anche quando per zone provinciali o significative si supera quel livello e in tutti i casi si è superato si 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 c'è esatto il mattino di parco due domande le quali è possibile rispondere con un sì o con un no grazie alla sua ben nota perizia così diamo tregua posso sbagliare al 50% abbiamo gli ascoltatori estremati esatto uno questione che può sembrare un po' ingenua ma in zona rossa vale ancora la deroga per i comuni inferiori ai 5.000 abitanti per gli spostamenti entro i 30 km no si riferisce quella norma là che è stata ripresa dalla legge di conversione del decreto del 14 di gennaio si riferisce alle zone arancioni cioè le zone testualmente che sono soggette a limitazioni di spostamento in ambito comunale in realtà nella zona rossa lo spostamento è limitato in tutti gli ambiti geografici qui non c'è una abilitazione allo spostamento comunale senza motivazione anche all'interno del comune ci si deve muovere per certe motivazioni bene grazie la seconda i bar con o senza cucina che hanno un codice a teco diverso da mense e ristoranti possono fornire pasti alle persone con un contratto regolare sì se bastava il sì dico sì se c'è la possibilità di spiegare dico ecco giustamente parlava della teco la teco ecco in relazione a questo tipo di attività anche alcune prefetture hanno detto che non è determinante quindi è possibile svolgere il servizio le condizioni sono una convenzione tra un datore di lavoro e un esercizio bar e contrattualizzate e una specificazione dei soggetti che in base a quella convenzione devono essere presenti nel bar non potendo essere altri soggetti grazie Parisi Bone Avvocato buongiorno Avvocato Botteon nella specificità di Venezia e delle sue isole l'attività motoria con la passeggiata nei pressi dell'abitazione può essere paragonata a chi avendo di fronte fisicamente il mare o la laguna può praticare attività di pesca individuale in barca domanda di molti telespettatori grazie allora ecco noi abbiamo cercato di fornire un'indicazione sulle categorie di attività fisica nel prospetto che è stato pubblicato ecco allora rispetto all'ipotesi che faceva sono evocate due categorie cioè l'attività motoria che è l'attività fisica non catalogata in una delle fattispecie di sport che può consentire per esempio l'utilizzo la camminata che è l'attività motoria normale la nuotata non è periodo e anche l'esercizio di attività fisica con lo spostamento di un mezzo come la barca o la bicicletta per quanto riguarda la pesca in realtà verosimilmente entriamo nel campo dell'attività sportiva perché la pesca è oggetto di disciplina a livello federale e quindi è considerata prevalentemente come attività sportiva e quindi a maggior ragione è possibile svolgere questa attività qua ecco diciamo che le indicazioni sono tutte nel senso del pur mancando rispetto all'attività sportiva una specificazione territoriale della limitazione più possibile nei pressi dell'abitazione ma siccome l'attività sportiva appunto può anche svilupparsi come l'attività del canottaggio come quella ciclistica su territori più ampi non c'è una rigorosa limitazione riferita all'abitazione ma sicuramente non si può circolare per tutta la regione per svolgere questa attività però l'attività di pesca la potremmo riferire all'attività venatoria che invece è vietata come la mettiamo l'attività di pesca è una roba diversa dall'attività venatoria l'attività venatoria non mi risulta catalogata tra le discipline federali a differenza ok speravo di cogliere in castagna no e comunque ci si avva cioè noi ecco ovviamente richiamiamo le facca del governo che ci sono state categorie che hanno risposto come pretenderebbe giustamente una cosa rapidissima il concetto di prossimità non è mai stato definito neanche questo è un concetto storico a cui sono molto affezionato perché è stato continua a non essere definito in maniera puntuale non è definito per fortuna direi per fortuna perché così lavorano gli avvocati ma no ma soprattutto credo che ci sia si sia maturata un po' di flessibilità anche negli organi di controllo è una caccia a botteo o non è più direi che possiamo chiudere qua è un avvocato volvino c'è molto lavoro diciamo molto lesso grazie a tutti